Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Alda Fendi, una delle icone della moda italiana, ha vissuto un terribile incidente domestico nella sua casa sull'isola di Palmarola. La donna è caduta a terra, riportando gravi lesioni che hanno reso necessario il suo trasporto d'urgenza in elicottero al Policlinico Agostino Gemelli. L'incidente si è verificato il 10 luglio, intorno alle 18, e le condizioni di Alda Fendi sono apparse subito critiche. L'elicottero Pegaso 44 di Elitaliana è intervenuto prontamente per soccorrere la donna e trasportarla al pronto soccorso del Policlinico Agostino Gemelli a Roma, in codice rosso. Una volta giunta in ospedale, Alda Fendi è stata ricoverata nel reparto di traumatologia e ortopedia, dove è stata sottoposta a tutti gli esami necessari per valutare l'entità delle sue lesioni. Al momento, la famiglia Fendi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle condizioni di salute della donna, mantenendo riservatezza sulla vicenda. La notizia dell'incidente di Alda Fendi ha destato preoccupazione tra i suoi numerosi ammiratori e nel mondo della moda, che resta in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La designer, nota per il suo talento e la sua eleganza, ha sempre suscitato grande ammirazione nel settore e il suo improvviso incidente ha generato un'ondata di solidarietà.